600 euro mi si ripete per i comunali e 200.000 euro per i giovani mangiare il gioco a mai e avva a morre ma forse non avevo buon giovane buon giovane perché sa fare i gumbari non la cosa sa fare i gumbari sa fare i gumbari sa fare cosa sa fare i gumbari sa fare i gumbari oh mi chiedeva mettere il gioco a soffro non cimilevo vogliamo chiamare una mia a mettere soffro ma non cimilevo venite lì 30.000 euro per chiedere un gumbari non cimilevo abbiamo fatto tutti i tentativi possibili anche con l'altra messa ma chi l'ha positito che era non cimilevole della pace se come non ho il coraggio di scendere un buce quando parlo io scusate eh scusate in passato dicendo che la vecchia non mi pare che si è stata la vecchia di un preago di questa non so ha visto il ritmo per il 30 apri da via un milione la mando un milione e 800.000 euro disponibili un milione ma che stai finisce a fare 40.000 euro avrò un bel re 40.000 euro avrò un bel re 80.000 euro ma quando sono là e allora non a dire niente se io non posso promettere se io non caccio non mi voglio dire niente proprio di un po' e c'è paghia guarda la macchina la spaggiatura è tutta la schede ma scusi lei ha detto un milione e 800.000 euro un milione e 800.000 euro ma così ha detto il 200 aprile c'è una cesta tutta la rimanenza della tasse dare come un minchia si chiama c'è una cesta un milione e 400.000 euro oggi due milioni e ci si andava il 2014 all'azienda significa da settembre in poi fino a dicembre c'erano 600-400.000 euro l'azienda a noi ce ne paghavano e non ce ne paghavano certo invece c'è 800.000 c'erano 80.000 euro è vergognoso io non c'è mi chiede la ditta davanti al prefetto dì si mettono avanti non c'è mai non c'è mai non c'è mai non c'è mai perché non c'è la frammatola ti devi dire se l'oltre ne sfugge se l'apertura ce l'apertura ce l'apertura che è spiegherice facci che l'apertura si mettono a fuori non è che ci avevamo detto per forza che per farlo se non c'è la vera spiegare di cosa non lo so non lo so ma non è che ne puoi tenere nel 2015 non abbiamo ancora un centesimo loro 1.000 e 15 e siamo stiamo a capanno l'anno ma c'è l'auto come abbiamo pegato sempre 500-700 che siamo a 5.000 non risolvete la situazione non è che non è che ci siamo i porti ci serviamo ammattiti i spacciatori noi non è che non lo so 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.